Buongiorno amici! Buongiorno, hi guys, and welcome to this new live from Pizzo Calabro, I am in this nice town of Calabria, so we are in the south of Italy, we are in the south of Calabria, the town is Pizzo Calabro, and with this video we will go around to discover this nice town, we will walk from this panoramic balcony, where there is the church of San Francesco di Paola, from here to the piazzetta of Pizzo Calabro, so let's go guys and walk all together in Pizzo Calabro, because I really want to show you this nice town of Calabria, so here we are, saluta Leo, here we are me and my Leo, today it's a wonderful day, so very good for making some videos, for going around, and it's also very nice and hot day, 20 degrees more or less, the temperature and very beautiful, also the sky, look here, what a nice sky, ciao Albert, Nubi, Miller, buona domenica, ciao from Buffalo, ciao Mitloff, buongiorno Beatriz, hola Beatriz, e bienvenida a nuestro nuevo video de Pizzo, and look here guys, we are here in the main road of Pizzo Calabro, and from here, from the church of San Francesco di Paola, where we are now, we will walk all this way down to the piazzetta, where I will show you another amazing panorama of Pizzo Calabro, so here it's the city of Pizzo, as you can see, and we are here, we are just here in Piazza San Francesco, and we will walk all this street from there, to Piazza della Repubblica, which is just here, so send your comments, send where you are from, your likes, and let's start our tour here in Pizzo Calabro, put it in the house now, come over here, let's go first inside this church, the church of San Francesco di Paola, Leo, vieni Leo Ciao Celine Ciao Celine From Canada To all my beloved supporters and friends Because after a while guys we become friends We become families Many lives that I want to do with you Many videos I want to share with you many places of Italy So when we do it together Then it's more beautiful And it really looks like we are going around Italy as a big family Discovering all these beautiful places around the country So here we are in the church of San Francesco di Paolo And what you see here Are the paintings Of the different miracles That San Francesco did during His life San Francesco di Paolo And Paolo it's another town Just near Pizzo Calabro Where we are Where there is the big sanctuary Of San Francesco And we will also go there guys one day Don't worry And we will see also The beautiful village of Paolo Di qua, di qua, dove vai? Of San Francesco di Paolo And we will see If the beautiful village of San Francesco And we will see They call me To the kings of San Francesco And we will see Of San Francesco loving city So now me see the comments ciao teresa hello from texas love the dome ciao from canada love your vito selene ciao miller we enjoy being live with you and our wonderful community on our channel thank you miller and thank you for the saying our because guys this is our tour our videos when we do it live as i told you it's even more beautiful more happy for me because i can interact with everybody the quality of the live video it's not exactly the same like the video we do when we are not live because those videos are made with 4k resolution so they are good for television but to go around especially on sunday when people are more relaxed and to see some beautiful town all together it's very very nice and then today i am also with my leo so when i am also with leo it's also beautiful and alessandro today is home is a bit sick with teresa so i decided me and leo to take the car and to go around and see some nice place and we saw you di qua saliamo di qua a destra grazie so guys let's go inside this small narrow streets of pizzo calabo pizzo calabo it's a old town near very near to tropea tropea it's the most famous town of calabria is 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 guarda che bello storico ho letto dobbiamo andare in un bar dove la fai qui aspettami aspetta che scendiamo di qua un attimo no qua è chiusa è un po' fai, ragazzi, qui perché come puoi vedere alcune strade sono un po' fai, altre strade sono un po' più più clean e è davvero sembra come un grande labyrinth di strade e di paesi, quindi andiamo andiamo all'interno, la strada principale ora siamo in un posto vero quindi andiamo all'interno ciao dalle hawaii, wow quasi 5 domani ciao a Uppia la città di Saeed Miller e ragazzi, molto importante qui lascio il link per il bambino se vuoi bambino il vostro hotel e poi si tratta di ora fino a Decembre quindi se vuoi fare la riservazione fino a ora fino alla prima settimana di Decembre ti avrai un grande sconto per il bambino per le vostre riservazioni da oggi fino a giugno dell'anno prossimo e qui è il link per il bambino potete solo copiare e pastare in vostro internet in vostro browser e avrai i vostri sconti e guardate qui ciao Carmelo guardate qui la meraviglia di Calabria ma avremo un migliore di un altro posto che è la piazzetta principale di Pizzo Calabria wow un giorno magico oggi molto caldo e un bel occhio come puoi vedere quindi ragazzi questo link è per voi il link del bambino e puoi usare per tutte le vostre riservazioni non solo per i vostri hotel in Italia ma per i vostri hotel ovunque e è importante bisognare da ora fino alla prima settimana di Decembre perché questo è il periodo in cui puoi usare il vostro sconti e la mia consiglia è che puoi bisognare il vostro hotel e puoi trovare un hotel che ha una felicità di cancellazione quindi se decidi per cancellare la tua tour non pagare penalità ma almeno ora ottenere il discorso quindi copia il link che è qui nel nostro commento copiare il link e usare per la vostra riservazione per inserire wow guardate queste belle strade di Pizzo Calabro un attimo belle strade di Pizzo Calabro in cui vengono da la strada alla principale strada per le auto guardate qui siamo in questo labyrinth di strade e mi viagli 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 tutti perché come abbiamo detto prima questi sono i nostri video quindi è molto importante che tutti che guarda i video viagli 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 piue ma eserà viagli per l'Italia mi piace vedere il padre e il figlio insieme grazie miller guarda che bella la scala vieni che saliamo mi piace mi piace mi piace mi piace via con Leo anche quando Alessandro sarà grande sarà più ora è solo due anni e un po' quindi camminare molto per lui sarà un problema ma credo che mi piace anche andare e scoprire così bellissimi e come potete vedere per visitare l'Italia magari può essere molto difficile guarda qui wow guarda qui in alcuni metri abbiamo fatto più di 30 passi quindi siamo qui e ora siamo qui e poi puoi andare dal lato ciao earth paradise from Miami Beach vieni qua Leo non scendere che andiamo di qua ce la fai oi puoi andare da qui in Italia questo è l'Italia questo è l'ultimo villaggio che puoi visitare in Italia guarda qui qui sono le stagioni molto alti passi per fare in questo bellissimo corner di Pizzo e in Italia ci sono veramente molti villaggi con così belle strade bene vieni che ci andiamo ciao ciao round tv metro hi to everybody guys I hope you like the videos and the lives so my idea as I told you it's to do also many lives because to make the videos it's it's taking already a lot of time and look at this these are some beautiful shops that you can find when you are in Pizzo Calabro nice street ma se corri poi lo sai che ti stanchi you see Leo he likes to run and then he gets tired that's that's the problem dai che andiamo a casa vieni vieni che saliamo di qua so here we are in the fontana garibaldi from the year 1866 and here to the center of the town of Pizzo but we don't go on the main road we go here from the small narrow beautiful streets leo leo vieni c'è una colombe c'è una colombe Leo no sono volante alzati alzati che c'è sport qui vieni vieni di qua si esce chiedo scusa di qua si esce non lo so forse no grazie dai ci siamo quasi grazie 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 so this time of the day guys I think it's a good time because there's still a good light for a live streaming it's quiet not so many people around so we can talk more get to know each other look here wow andiamo di qua leo che dici so guys we go this way or this one maybe it's better for me because it's better for the signal so guys as you can see it's almost 8000 steps since we arrived in pizzo because i made the first live streaming video on facebook on our spanish page conoscendo italia and this is the second time we go around pizzo with leo and from here from pizzo also a lot of people they immigrate to vieni 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 non andare di là leo they immigrate to USA to to america to canada so you can show this video guys also to your so you can show to this this video also to all your friends with which they came from calabria and for sure they know the town of pizzo calabro thank you miller yes he is feeling already good alessandro the problem is that in this period of november the days are a bit crazy so yesterday and today was very hot the temperature but the last week it was cold really cold so and tomorrow it's coming again a week of rain so it's difficult to to dress properly let's say look here so here it's the church of immacolata guys now here we are in the main excuse in the main square of pizzo calabro and here it's a beautiful building a beautiful palace where there are a lot of pizzeria and restaurants and here it's the beautiful palace wow look at this here we are in the final battle so here it's the many bars are the many bars which attenzione which they serve the famous ice cream of pizza called the tartufo di pizzo and this is the road which goes to tropea tropea it's the most famous town of calabria you can watch our video on youtube it's there noobie rose lovely the sun on the stone yes it's a perfect and wonderful light guys now and look here wait guys attend the gun where's guys wait guys because we will go there we will go there on the main balcony and from there the view it's wonderful it's really wonderful now let's go this is where it begins to fall freddo let's go let's go 1 and 2 we are going to the Duomo thank you ron yes tropea was also a nice destination a nice video that we did and now let's go inside the Duomo i want to show you also the Duomo of Pizzo so one second ah a chiara chiara dc yes chiara if chiara if you went to tropea by car then for sure you drove through pizzo. E pizzo, ragazzi, mi suggerisco di stoppire, anche se fosse per mezzo di domani, ma è un piacere dove restare. Per mezzo di domani hai un piacere, hai qualche piccola foto, prendi qualche piccola foto e video, e lo faranno davvero davvero. Poi puoi visitare il Duomo, puoi andare alla piazza, prendi qualche souvenir, prendi qualche buona cazzo di pizzo, quindi è una buona destinazione anche. Qui andiamo. Questo è il Duomo, e poi siamo dal Duomo. Per il Duomo, ragazzi, andiamo alla piazzetta di Pizzo. Vieni, vieni. Luca, the view. Vieni qua. Vieni, Leo. Vieni. 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 V but let's vediamo di quale si esce dice che si è chiusa sta strada attenzione qua qua c'è pieno di gatti and you see look it's full of cats everywhere so looks lucky the cats part of the city Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono suoi quei gatti. Ma te l'ho detto che c'è pieno. Vieni, vieni. Quindi ragazzi, qui siamo tornati nella piazzetta. Voglio mostrarvi la piazzetta perché è... Guardate questo, ragazzi, guardate questo. Grazie. Wow, perfetto per finire questo live, perfetto per finire questo live con questo meraviglioso sul pizzo. Perfetto, ragazzi, sul pizzo. Guardate quanto bello che è bello. Wow, molto bello. Molto, molto bello. Molto bello. Ma non voglio andare qui. Siamo in un altro balkone che è ancora più bello. Quindi, aspettate un secondo, ragazzi, perché siamo in un balkone ancora più bello che lo amere. Quindi aspettate due minuti e siamo in un altro balkone perfetto di pizzo. Allora, vieni. Allora, andiamo a guardare la piazzetta da un altro balkone. molto bello. Wow, molto fortunato perché è abita la città del Purgatorio e di Maria Santissima delle Grazie. Vieni là. Wow, guardate questo. Guardate questo video, ragazzi. Per me il panorama è perfetto. Allora, la città, la chiesa del Purgatorio e la chiesa della Madonna delle Grazie. del XVIII, del XVII e del XVI secoli. Miller, sei certo. Miller, sei certo. Miller, sei certo. E la vista da qui è qualcosa di incredibile. Allora, guardate questo. Guardate questo. Guardate così bello, la città di Pizzo, da qui, ragazzi. È molto bello. Vedete il sole? 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 Vedete anche la città di Tropea. Vedete la città. Questa è buona Piazzetta. Quindi, la maggior parte delle persone andengono qui, come vedete. La maggior parte delle persone, ragazzi, andengono qui, in questa Piazzetta, ma la vista da qui è molto molto più be田. È tranquillo? Sì. No, no, è tranquillo. È tranquillo. Questo è come bello, eh? and there guys the town of tropea so from here to tropea as you can see it's very near it's just down there and here the sea of pizzo so you can go here you can swim and you understand how beautiful it's pizzo guys there is a wonderful sea you are near to tropea you are just in front of the holic islands and there are tours which they live every day from here to the holic islands are just here today we don't see them and then you have the castle you have the piazzetta everything perfect for a nice stay in tropea and now let's go inside the church of madonna delle grazie guys the church of madonna delle grazie all'interno interessante fossa sotterranea di tumulazione pasqualini vieni wow said miller wow perfect light for the perfect view beautiful sunness sunset lea vieni che andremo in chiesa qua we'll see it rise on our side for a few hours beautiful ciao la corte wow guys incredible incredible church la corte wow really beautiful la corte wow really beautiful aspetta facciamo l'offerto la corte wow 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 salva beautiful church guys or we must say amazing church leo vieni che salutiamo dai and this is the view from piazza delle grazia so from here from me and from leo leo dove sei ciao a tutti amici thanks to everybody for watching for this one minute so we spend together here in pizzo calabro amici bello bello grazie a tutti thanks to everybody and i wish you all the best for today have a nice sunday and see you soon with more